Non siamo nessun nuovo partito delle procure, noi oggi siamo venuti qui per chiedere al procuratore di Napoli di mettere sotto i riflettori le relazioni sempre più fitte che ci sono tra mondo cooperativo, criminalità organizzata e fenomeni di corruzione. La verità è che non esiste una procura nazionale che si occupa in Italia dei casi di corruzione, oggi se esistesse dovrebbe seguire il filo conduttore o delle cooperative o dei reati di corruzione per riuscire a trovare quelli che sono i più grandi scandali in Italia legati ai soldi delle tasse dei cittadini che vanno in tangenti e vanno in sprechi. Noi abbiamo ricostruito con un atto che abbiamo depositato qui alla procura di Napoli come l'abbiamo depositato al dottor Roberti qualche giorno fa in cui abbiamo dimostrato come nei più grandi scandali di corruzione c'è sempre una cooperativa, sempre le stesse cooperative legate ai partiti, c'è sempre un politico corrotto e c'è sempre un'organizzazione criminale. Allora qua in provincia di Napoli come facciamo a riuscire a fermare i fenomeni di corruzione legati alla criminalità organizzata? Seguendo il filo rosso delle cooperative. Noi non vogliamo essere il partito delle procure, noi vogliamo essere solo persone che denunciano e capisco il PD che è preoccupato perché ogni volta che abbiamo denunciato, otto mesi fa in Calza, avevamo denunciato la TAV di Firenze, avevamo denunciato tante altre cose, poi gli scandali si sono verificati. E' quello che abbiamo chiesto qui oggi anche in Campania, una verifica sui sistemi delle cooperative perché per come sono conformate a livello normativo e legislativo permettono probabilmente maggiori infiltrazioni nei fenomeni di corruzione e quindi nei legami con le organizzazioni criminali.